L'Odio è tornato ed ella non si fermerà finché non avrà corrotto tutti noi. Ma da qualche parte, all'ombra della sua oscurità, la tua luce deve risplendere per trovare speranza in un bagliore d'acciaio, o nella furia della natura, o nel potere della fiamma. Dovrai ergerti dinanzi all'Odio, o lei ci annienterà tutti. È giunto il tuo momento.